Nuovo spazio quotidiano con l'informazione, oggi giovedì 16 febbraio, completato in piazza Scandaliato a Sciacca il montaggio del pacco dove si svolgeranno gli spettacoli di intrattenimento carnevalesco nei giorni 18, 19 e 20 febbraio. A parte l'impegno di spesa non si conoscono ancora i dettagli dell'iniziativa che ha l'obiettivo di creare un clima di festa seppure senza le tradizionali sfilate di carri allegorici rinviate come noto a maggio. Si apprende da indiscrezioni che una parte degli spettacoli sono stati affidati a Pippo Graffeo che con musicisti e attori in due serate ripercorrerà il passato, il presente e guarderà il futuro del carnevale. Coinvolti a Cursio Sclafani, a Narita Marette, a Manuele Scaduto e la Scuola di Ballo e Accelenzia. In un'altra serata ci saranno le esibizioni della Manuela Dance. La campagna di solidarietà della città di Sciacca a favore delle popolazioni terremotate in Turchia e Siria avrà come centro di raccolta la Badia Grande a San Michele con ingresso laterale in piazza Roceto. La raccolta sarà fatta a partire da domani in tre giorni, 17 e 18 febbraio dalle 16 alle 19 e il 19 febbraio dalle 9 alle 12. I promotori, 20 associazioni di volontariato più il comune, invitano le persone a donare quel che possono, un vestito usato ma in buone condizioni, farmaci generici ancora utilizzabili e coperte per sostenere così, con un piccolo gesto, le operazioni di soccorso in Turchia e Siria. Il blocco dell'accessione dei crediti legati ai bonus edilizi rischia di portare al fallimento centinaia di imprese facendo collassare l'intero comparto edilizio siciliano. Per evitare ciò il deputato Saccense Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana, ha depositato oggi un disegno di legge firmato da tutti i parlamentari del gruppo che prevede un intervento della regione procedendo all'acquisto dei crediti d'imposta detenuti dalle banche a seguito di cessione operata dagli operatori economici o da cittadini e la compensazione con i propri debiti fiscali. Promuovere la pratica sportiva dei giovani siciliani dai 6 ai 16 anni, questo è lo scopo del Fondo per lo Sport istituito dalla legge regionale di stabilità su proposta del Governo regionale con uno stanziamento di 1.300.000 euro per il 2023. L'articolato predisposto dall'assessore al turismo prevede l'erogazione di appositi voucher da utilizzare per partecipare alle attività o ai corsi organizzati da società o associazioni dilettantistiche affiliate alle federazioni. Le modalità attuative, l'individuazione dei beneficiari in base alle fasce di reddito e l'importo di voucher saranno determinati con un apposito decreto assessoriale. Slitta ancora a Ribera la consegna dei nuovi alloggi popolari di largo dei martiri di via Fani doveva venire entro il mese di febbraio. Sulla questione questa mattina il Comune si è svolta una conferenza di capi gruppo consigliari. Si sono evidenziati i problemi relativi alla cessione dell'area da parte del Comune dove verrà ubicata una cabina Enel e la necessità della cessione da parte di un immobile, di un ex proprietario, per completare la procedura di accatastamento. Dopo l'intervento del sindaco Matteo Ruvolo che ha relazionato sui problemi e sulle criticità relative alla consegna, si è svolto un dibattito in merito alle cause dello ritardo nella consegna degli alloggi. È tutto per questa edizione, rimanete con noi, buona serata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero Whatsapp.